Torna la sfida con la Colligiana in casa San Giovannese e tornano in palio preziosissimi punti salvezza in vista anche del recupero di mercoledì successivo ad Adria. Torna in campo però una delle rivalità calcisticamente più sentita, nonostante alterne fortune dei due sudalizi che però sono tornate ad incrociare le armi calcistiche nell'ultimo ventennio con notevole frequenza, sia nell'ambito regionale che nazionale o addirittura professionistico. La tradizione di San Giovanni, Galli prima, Fedini poi, porta ad un dato confortante che evidenzia come i biancorossi di fatto qui in campionato non abbiano mai vinto nelle precedenti 19 gare. C'è un unico precedente a loro favorevole riguarda gli spareggi playoff, allora pressoché inutili, di Serie D del 97 quando la Colligiana si impose per 2-0 nel girone post-season. Rientrato, passando allo spogliatoio l'allarme per Bettoni, il portiere sarà regolarmente in campo ma oltre allo squalificato Camillucci, la settimana di allenamenti sta portando strasci che sia per Mariani in mediana che per Cappelletti in difesa, con obbligo in quel caso di ricorrere a diversi tra i nuovi arrivi del Carpi per mister Bernini. Dirige l'incontro 5 di Pistoia, uno degli arbitri emergenti della nostra regione, incrociato dagli azzurri più volte nell'ambito della Juniors nazionale ed anche fischietto della finale di Coppa Italia di eccellenza del 2014 tra Bucinese e Ponsacco.